Il Caffè della Fortuna qua a Cento Vettrine a Morciola è costretto a chiudere nelle weekend. Nei giorni di sabato e domenica, dopo il nuovo DPCM, la zona qua a Morciola, che viene considerata un centro commerciale, è costretta a rimanere chiusa. Il tutto in una zona che prevede attività commerciali con ingressi separati, ognuno ha il proprio ingresso, c'è chi anche ha la propria uscita, come qua è il caso del Caffè della Fortuna, con il suo titolare Luca Mancini molto indignato per la situazione che si è venuta a verificare. Ha dovuto disdire anche tantissime prenotazioni per quanto riguarda lo scorso weekend, nella speranza che il prossimo possa restare aperto, se chi si sta muovendo in ragione, anche con il sindaco Palmiro Lucchielli, in una situazione che già era complicata in precedenza, lo ricordiamo, l'apertura alle 5, la chiusura obbligata alle 18 per l'attività di ristorazione, poi anche le weekend chiusi in una giornata in questi due giorni dove si lavora tantissimo, tutto sempre più complicato. Buonasera a tutti, è stato un fulmine a ciel sereno, l'abbiamo scoperto venerdì pomeriggio, ci hanno avvisato che rientrevamo come centro commerciale, noi avevamo già tutti gli eventi in programma, sia sabato che domenica, per noi non abbiamo nemmeno immaginato che noi potevamo essere chiusi, perché questo non è un centro commerciale, avendo un'entrata a parte, un'entrata in uscita, siamo indipendenti, non abbiamo niente a che fare con un centro commerciale in teoria, quindi è stato preso allo sprovvista. Hai parlato di, avevate qualcosa di pronto, qualcosa anche immagino di novità, visto il periodo per cercare di invogliare la gente a venire comunque in un posto pubblico. Sì, infatti, già con il decreto precedente, con la chiusura del 18, ovviamente si è molto penalizzato un bar, perché il 90% degli operai lavorano tutti fino alle 18, quanto loro staccano io devo chiudere, è un problema, quindi devi sopravvivere per tutta la sede, lunedì al venerdì, con le colazioni, il massimo che si può fare. Ti prepari per il weekend con degli eventi diversi, abbiamo un programma, un aperitivo itinerario, l'abbiamo inventato, dove l'Italia ha 20 regioni, ogni domenica facciamo una tappa su ogni regione a tema. Si partiva dalle marche, su ogni regione si consigliava un bianco, un rosso e un fristantino, con il piatto tipico, partivi dalle marche, c'era l'oliva scolana e via dicendo. La prossima tappa era in Toscana, bianco, rosso e bollicine della Toscana, con il piatto loro e via dicendo, per tutte e venti le regioni. Proprio all'inaugurazione del giro, al venerdì, è uscito fuori questo nuovo DPCM che ci ha tagliato le gambe. Quando è uscita fuori questa notizia che dovevamo rimanere chiusi, ci siamo subito mobilitati con il sindaco, consiglieri regionali, Flavitri, Biancani e via dicendo. Tutti per cercare di risolvere questo problema. Speriamo di riuscire perché così la vedo molto molto difficile. Ti chiedo anche, hai parlato di una forma particolare di aperitivo, sappiamo che l'ora dell'aperitivo è quella delle 18. In questo caso a che ora si sarebbe dovuto partire il tutto? Avevamo modificato alle 11, si erano per il pranzo. Visto che ci dovevamo adattare, si adattava all'aperitivo. Però la gente bene o male si adatta facilmente. La volta prima avevamo fatto la festa della Campari, sempre alla mattina alle 11. Bisogna inventarsi questi eventi, ma togliendosi il sabato e la domenica è difficile inventarsi. Grazie. Grazie.